Con questa lettera che consegneremo alla Patrizia Merigliani, al patron di MIS Italia, chiediamo sostanzialmente una variazione, una modifica al regolamento per il quale l'elezione delle MIS regionali, delle fasce regionali come MIS Liguria, MIS Lombardia, MIS Sicilia, sia ad esclusivo appannaggio delle residenti nella regione e che quindi non possano parteciparvi ragazze da altre regioni. Non è assolutamente una polemica nei confronti di Ligda che assolutamente appoggiamo senza dubbio e speriamo che vada avanti il più possibile nel concorso, però ci teniamo molto che questa modifica venga fatta e contiamo di avere una risposta più presto dal comitato di MIS Italia.